cioè ma lo vedi cosa tutto ma lo vedi cosa tutto sta succedendo cioè guarda cioè ma cosa sta succedendo a sassari oggi fuori di testa è una cosa che non si crede cazzo guarda ma cosa cazzo sono venuti a fare micidiale ma veramente pettardi bomba e carta fumogeni cazzo stanno ma cosa sta succedendo ma veramente cazzo sono tutti fermi cazzo quello è sporco di sangue cazzo puri micidiale veramente dai dai c'è ma cosa cazzo sta succedendo veramente veramente cioè pieno di sbirri sta arrivando un'altra battuglia un altro camioncino cazzo adesso gli troncano le ossa sicuramente me uffala ecco adesso finalmente si vede qualche cosa cazzo una giornata diversa dalle altre veramente c'è cose mai viste a sassari e ma davvero cose mai viste a sassari mai mai vista una cosa del genere micidiale sta scoppiando l'inferno sta scoppiando l'inferno ecco